Marco Raspati, Nexo Corporation e sono l'amministratore. Il dato per la nostra azienda, ma l'azienda in generale, è fondamentale perché senza quel dato che permette poi di valutare quali potranno poi essere le scelte non si fa assolutamente nulla. Sapere come a livello di marketing internazionale e quindi di approccio ai mercati esteri è senza dubbio il dato che per noi è più interessante. Grazie.